Come pianista, compositore e illuminare, Franz Liszt, nato nel 1811, attraversa tutto il XIX secolo ed è fondamentale nella sua influenza sul XX. Anche se Liszt è nato insieme alla prima generazione di compositori romantici d'Orléans, Chopin, Schumann e Mendelssohn, sopravvisse a tutti loro e diventò amico di Wagner e sostenitore della musica del futuro. Franz Liszt nacque in Ungheria, suo padre lavorava per la famiglia Esterazzi e presto riconobbe le prodigiose doti di suo figlio. Dopo aver studiato con Zerni e Salieri a Vienna nel 1821, Liszt si fece rapidamente un nome come virtuoso del pianoforte, esibendosi a Londra e a Parigi. A 14 anni aveva scritto a Don Sanche, un'operetta che produsse a Parigi, dove visse dal 1823 al 1835, diventando amico di importanti figure della letteratura e della pittura, nonché di Berlioz e Chopin. Questi due compositori, insieme a Paganini, che ascoltò con stupore nel 1831, furono le influenze primarie nella formazione del complesso carattere estetico di Liszt. Berlioz ha ispirato il pensiero nei termini più grandi, più grandiosi e più colorati. Si trattava di un pensiero musicale spesso ispirato alla letteratura e che conteneva implicazioni rigide. In effetti, si può pensare a Berlioz come al principio di quella corrente di romanticismo che va da Liszt a Wagner fino alla musica di Mahler e Richard Strauss. Liszt fu al centro di quella che diventò la scissione definitiva fra questo percorso e la tradizione romantica più conservatrice e in definitiva meno influente incarnata nella musica di Mendelssohn, Schumann e Brahms. Il violinista Paganini ispirò Liszt alle più alte vette di virtuosismo e spettacolarità. Liszt affermò chiaramente che voleva fare per il pianoforte ciò che Paganini aveva fatto per il violino e Liszt arrivò al punto di trascrivere un certo numero di capricci per violino solo in musica per pianoforte altamente efficace e virtuosistica. Gli studi Paganini I più grandi pianisti dell'epoca, tra cui Chopin e Mendelssohn, anche se erano disgustati da alcune delle volgari esibizioni del modo di suonare di Liszt, erano comunque intimoriti da quello che probabilmente è stato il più grande pianista tecnico che il mondo abbia conosciuto. Clara Schumann ha affermato «Liszt ha suonato a vista ciò che fatichiamo a leggere e a eseguire e alla fine non arriviamo da nessuna parte». Sia Paganini che Liszt combinavano il più alto livello di virtuosismo e musicalità con un talento consapevole e carismatico per affascinare il loro pubblico in gran parte borghese. In termini di impatto sociale sono i prototipi di un artista performante che è più approssimato rispetto alle rock star del nostro tempo. I concerti di Liszt erano famosi perché provocavano svenimenti fra le donne che rischiavano di essere calpestate dal pubblico maschile. Mentre Liszt potrebbe aver suonato Beethoven nel suo studio, i suoi concerti pubblici in questo periodo non erano a corto di musica nuova, composta principalmente da lui stesso. In effetti Liszt nella sua egomania inventò il recito al solistico moderno che inizialmente chiamò «Soli loqui». Grazie a Chopin tuttavia Liszt sviluppò il suo senso del potenziale del pianoforte per un'intima espressione poetica, più significativa che ornamento orbuante, e per le possibilità del pianoforte per le colorazioni e le sfumature più sottili. Dalla «Barcarole opera su accent» di Chopin, fino al «Jodo alla via d'Estè» di Liszt, siamo chiaramente sulla strada dell'impressionismo di Debussy e Ravel. E così abbiamo in un solo uomo una gamma di qualità, da poeta e visionario a showman e persino charlatano che spiega perché stiamo ancora cercando di capire il calibro di Liszt quale compositore. Liszt si sviluppò più lentamente come compositore che come esecutore. Fino al 1834 gran parte della sua attività consisteva nel trascrivere le opere di altri come repertorio dei suoi concerti. Dal 1835 al 1839 è il periodo degli studi trascendentali, in particolare il numero 3 «Pesage», il numero 7 «Heroica» e il numero 10 «Allegro agitato, molto étudio, un fa maggiore» e i tre libri dell'Année de Belle Ruinage che contengono molte importanti opere per pianoforte come «Valet d'Obermont» e i tre sonnetti di Petrarca. Dopo ciò seguirono molte delle rapsodie ungheresi come la numero 2, la numero 8 e la numero 12, parafrasi operistiche come il «Vars d'Alfosse» di Gounod, «Il rigoletto» di Verdi e «L'Overture» di Tom Houser di Wagner. E delle canzoni, citiamo la «Das Wanderen», dal ciclo di canzoni di Schubert di Schoenen Müllerin e der Lindenbaum dalla sua «Winterheise». Nel 1847 Liszt abbandonò la sua carriera a tempo pieno. Dal 1834 aveva avuto una relazione alquanto scandalosa con la contessa Dagu. Nel 1842 fecero di Ginevra la loro casa ed ebbero tre figli. Cosimà, l'unica sopravvissuta all'infanzia, nacque nel 1837. In seguito sposò Hans von Bullow, primo grande allievo di Liszt che in seguito se ne andò per seguire Wagner. Come suo padre in più di un modo visse una lunga vita, morendo nel 1930. La relazione con la contessa terminò nel 1844. Nel suo ultimo tour, Liszt suonò a Kiev, dove incontrò la principessa Caroline Sein Wittgenstein. Anche se non riuscì a ottenere il divorzio che aveva richiesto, la principessa creò un altro scandalo, unendosi a Liszt a Weimar nel 1849 dove era stato nominato direttore granducale della musica straordinaria. Liberato dalle esigenze dei tu, Liszt fece di Weimar il centro del movimento musicale progressivo. I pianisti arrivarono da tutta Europa per studiare con Liszt. Proprio qui lui iniziò a dirigere le opere di Berlioz, Wagner e altri. La libertà del suo stile pianistico è stata tradotta in uno stile esecutivo che ha avuto un grande impatto sul futuro. Liszt rimase a Weimar fino al 1859. Questi anni importanti hanno prodotto le sinfonie Dante. Citiamo i movimenti Primo Inferno e Secondo Purgatorio e Magnificat. E Faust. Consiglio l'ascolto del terzo movimento Mephistofele. Oltre ai 12 poemi sinfonici, tra cui il numero 1, «Sconantant sur la montagne», il numero 6, «Mazuppa», il numero 9, «Ungaria» e il numero 10, «Amletto», un genere inventato da lui. Forse il più grande pezzo per pianoforte di Liszt, la sonata in Sì maggiore, appartiene proprio a questo periodo, 1854. Questa enorme sonata, composta da un movimento, è dominata da un unico tema che viene ingegnosamente trasformato in personaggi fortemente contrastanti e da una fuga diabolica verso la fine del pezzo, che alcuni vedono come un brillante racconto intransigente del Faust di Goethe. Nel 1860 Liszt si trasferì a Roma per vivere a Villa d'Este, e prendere ordini minori, diventando l'abate Liszt nel 1865. Liszt aveva avuto a lungo tendenze religiose, sia sincere che ostentate. Ora che divideva il suo tempo fra Roma, Weimar e Budapest, Liszt conduceva ancora affari che facevano parlare di lui in tutta Europa. Il suo stile tardo esplorava ulteriormente i confini dell'armonia cromatica. Il famoso Tristano di Wagner era stato anticipato da Liszt in una canzone del 1845, e opere come Nuage Gris e Xardama Cabre anticipano chiaramente Debussy e persino Bartok. Liszt morì nel 1886 a Beirut dopo aver fatto un ultimo tour giubilare in cui rivisitò Parigi e Londra. Franz Liszt, genio, uomo di spettacolo, vanitoso ma generoso, mondano ma religioso, amico e influente su molti dei più grandi musicisti del periodo, rimane per noi una figura complessa. Mentre alcune delle sue musiche più sgargianti possono essere prese meno sul serio, i grandi pianisti hanno dimostrato che alcuni degli elementi di apparente bravura hanno un elemento spirituale quando sono correttamente compresi e assimilati. Bella Bartok, un compositore che sembrerebbe rappresentare l'antitesi di alcune delle qualità più discutibili di Liszt, ha detto in un saggio. L'essenza di queste opere si deve trovare nelle nuove idee a cui Liszt fu il primo a dare espressione, nonché nell'audacia che punta verso il futuro. Queste cose elevano Liszt come compositore al rango dei grandi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.